E adesso i parametri che ci interessano di più, occupazione terapie intensive 10%, occupazione area non critica 8%. Cosa accade allora? Accade che i tre parametri che debbono essere tutti e tre valutati per il passaggio di zona sono l'incidenza 3,17. Per il passaggio di zona bisogna avere 150, quindi primo parametro superato. Occupazione area critica terapie intensive, siamo al 10%, io direi secondo parametro superato perché è 10%. Occupazione area non critica, siamo all'8%, dobbiamo arrivare al 15%. Quando arriveremo al 15%, se ci arriviamo, passeremo in zona gialla. Quindi questa settimana, pur avendo due parametri su tre da zona gialla, ancora non vedono il vento in zona gialla. Quindi siamo appesi al filo dell'occupazione in area medica, nell'area non critica. Che rispetto al parametro da raggiungere, 8% 15% ha ancora 7% di margine di ampliamento. La verità è che noi dobbiamo far capire che la sfida di questa tragedia ce la giochiamo tutta in ospedale. E chi è distante dall'ospedale, peggio ancora o per sua fortuna distante anche da qualcuno che si è ammalato gravemente, la vede talmente da distante sto dibattito che io immagino possa anche dire ma cos'è sta roba? Cioè dovete pensare che dentro l'ospedale si sta consumando una battaglia che adesso ha già iniziato a togliere letti a persone che hanno diritto ad essere curate per altre patologie perché li dobbiamo dedicare a queste patologie. E non ci venite a dire ma dovevate programmarvi. Questi sono i numeri. Da là non scappi. Quindi dobbiamo far capire che la sfida è nell'ospedale. Quindi le terze dosi ci riducono drasticamente la possibilità dell'ospedalizzazione. Questa è la sfida. Guardate il vaccino funziona perché a parità di contagi, andate a guardarvi i dati dell'anno scorso, 3.000 contagi al giorno, oggi abbiamo un quarto dei pazienti in ospedale.